Sai che la Cecilia con il marito si dicono le parolacce? Testa di cazzo Vabbè, buonanotte va Mi chiamo Arnaldo Nardi Sono un uomo serio, un lavoratore e un padre di famiglia Poi un giorno... E non provare a tornare a casa, eh? E ora dove vuoi? Se uno della sua età deve venire ad abitare qui, ci avrai i suoi problemi Per me sì Anche per me Per me sì E questa è la sostanza Per le pulizie generali ci sono dei turni, sono scritti su questa lavagna qui Se nemmeno sapessi dov'è Che cosa fa? Sono tre giorni che non lo vediamo E che quando ho saputo che c'aveva un amante non ci ho visto più Arnaldo, un amante Ma che tu mi dici? Tempo massimo di permanenza, otto minuti A zero, suona la sirena Hai cinque secondi per uscire Che paura Sono abbastanza giovane? Giovane, diciamo giovanile Papà Ma questo qui chi è? È un amico mio, Arnaldo Anzianotto però, eh? I mortacci su Sto gran figlio di una mignotta Che schifo Arnaldo! Chi è che c'ha il culo a frisbee? Ma siamo un paraculo! Voi non fate come me, eh? Non sarete mai più forti di così Mai più belli e giovani di così Lanciate! Se mettete sul 527 del digitale terrestre ci dovrebbe essere un po' di disco music Dopo di questa Marendo Esploderà Esploderà Un fantai Sai quando stai a ragazzi noi E si andava a mangiare e il conto era troppo salato e che si faceva? Che facevate? Che arriva ultimo! Paghi il conto! Va bene? Via! I vicini che reclamano Se disturbi ancora un po' Ma la tua anima è il sipario Ad un fantastico via vai Quanto è? 198 200 euro Stiene pure il resto Grazie Le mani addosso no, eh? Guarda questo, le mani addosso